vitello tonnato e che volete che vi dica fatelo con me iniziamo per prima cosa metto l'olio in un tegame alto poi metto la carne il sedano la carota la cipolla e faccio rosolare la carne per 4 5 minuti su tutti i lati senza far fare la crosticina dopodiché metto il vino bianco secco l'acqua copro e faccio cuocere a fiamma bassa per un'ora passato un'ora porto la carne sul tagliere e la lascio raffreddare per almeno 45 minuti nel frattempo faccio la salsa quindi metto la maionese i capperi sotto sale le acciughe sotto olio il tonno un po di brodo della carne e frullo poi taglio la carne a fettine molto molto sottili ed impiatto senza sovrapporre coprendo di crema la carne che dovrebbe riposare in frigo per almeno qualche ora guarnisco con le carote e guardate qui squisito